Quali sono le sfide che dovranno affrontare nel corso della loro vita privata, nel corso della loro vita professionale e come dovranno relazionarsi rispetto al tema della privacy credo che sia un compito fondamentale e da questo punto di vista l'iniziativa da parte dell'Università di Salerno e da parte delle autorità, da parte di Google, di creare questo evento e di coinvolgere il mondo accademico e il mondo degli studenti credo che sia assolutamente un'iniziativa meritevole. Più in generale credo che portare sullo stesso tavolo le forze di polizia, le scuole, gli studenti, i professori a discutere di un tema così importante sia un aspetto estremamente positivo e sia un passo nella direzione giusta per cercare di fare un'opera di educazione nel settore della privacy.